Le espressioni, le linee del tempo più o meno profonde oppure i dilatati potete rendere il tutto invisibile in maniera istantanea. Guardate appunto la differenza, vedete dove non è stato applicato il perfettente, invece vedete anche dove invece è stato applicato e la pelle è senza imperfezioni. Ed è completamente invisibile sulla pelle, quindi le persone che vi vedranno vi diranno ma che cosa è successo alla vostra pelle perché nessuno vedrà che avete applicato il perfettente. Guardate, io l'ho applicato anche sulle mie due dita, sapete che sulle dita la pelle è particolarmente spessa, coriacea, che ci sono sulle nocche dei punti in cui i solchi sono abbastanza evidenti, guardate la differenza. Qui ho applicato il perfect tint e non si vede praticamente nessun solco, guardate dove non c'è il perfect tint, la pelle naturale del dito, come è segnata. Guardate qui, non ci sono segni, qui ci sono segni. Vediamolo sull'occhio di Connie e capiamo quello che succederà al vostro contorno occhi. Si è creata un pochino di coda perché ovviamente il perfect tint genera sempre un interesse incredibile. Guardate, guarda. Avete visto che cosa è successo alle linee attorno alla zona del contorno occhi perché quando si applica il perfect tint spariscono in maniera, diventano invisibili in maniera immediata. E poi non diventa duro sulla pelle perché la pelle rimane flessibile e si muove. Quindi avete visto che Connie ha mosso la pelle per farvi vedere che non è che il prodotto poi si sposti e poi vi lasci con il volto scoperto. Dura 12 ore. C'è un pochino di attesa al nostro call center, questo perché state apprezzando davvero molto i prodotti di Asam. Li trovate solo qui. Il perfect tint, il best seller della linea. In tanti lo stanno abbinando al magic finish perché con il perfect tint si lavora sulla texture della pelle. Guardate il codice a barre, come è stato completamente annullato. Guardate la zona del mento, le porosità dilatate, magari una pelle che ha degli avvallamenti dovuti ad un'acne passata. Tutto viene levigato ed il prima e il dopo, in pochi secondi, sono davvero sensazionali. Ma soprattutto una texture più levigata. Guardate proprio, Connie lo sta applicando sul codice a barre. Guardate cosa succede, in pochi gesti il codice a barre si cancella. It's like airbrushing. Sì! Sembra quasi spazzolato via. In realtà sembra la bacchetta magica di Photoshop. E questo è tutto in diretta, ecco i miei amiche, quello che state vedendo è perché sta succedendo qui negli studi. E qualora non fosse vero, voi avete 30 giorni per restituirci il prodotto. Come ha detto Patrizia, ha detto nel dubbio, io provo tutto. Poi se i prodotti non funzionano, so che posso restituirveli e che mi ridarete i soldi. Guardate il prima ed il dopo. Ci sono 4 minuti di attesa in questo momento, siete in 50. In questo momento... ... 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 ma è veramente... è davvero... questo è davvero... il vero... Achtung... ... 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 ma anche un mattone ma anche la città la città e si la città la città e anche la città e adesso coni la parte ma 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 la città la città e non non è la città la città la città il şu è Perciò che si riempi, è come Tesafilma. Ci sono anche molti. Ci sono anche un Auge. Ci sono anche molto più vicino. Ci sono molto più vicino. Ok, la menge per la menge. Per quanto riguarda il senso? 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 Perché si spittano? Sì, quindi possiamo dire che sia in 6-7 sti, ma anche in 12 sti. vor allen Dingen der Witz ist wenn sie jetzt erwarten dass sie ein ganz glattes Gesicht haben das sieht doch quatschig aus außer wenn sie Botox nehmen aber es ist natürlich wie ein natürliches Weichzeichen in der Haut sehr sehr cool so wow und jetzt gehen wir nochmal gleich zu Dana hin die Dana hat nämlich da sieht man nämlich Fältchen um die Mundwinkel und sie hat hier vergrößerte Poren gerade gerade im Kinnbereich jetzt gehen wir erstmal auf die Mundwinkel ganz da drauf gehen bitte hier ok hier toll man sieht hier gerade diese Blesse-Fältchen die werden hier wunderschön ausgefüllt vor allen Dingen du siehst ja sofort wie das mattiert ist toll das ist sehr sehr cool und wenn man jetzt noch ein bisschen runter geht mit der Kamera bitte hier halt Conny ja man sieht hier die die Dana hat ein bisschen Großporre gehaut die Poren werden komplett aufgefüllt ich finde das Produkt noch ein bisschen drauf vielleicht ja ja jetzt hat man sieht wie wie Poren richtig schön aufgefüllt werden mit Perfekteur also Männer die vergrößerte Poren haben die darunter leiden ganz viele Leute leiden unter vergrößerten Poren nehmen sie Perfekteur die Poren werden bis zu 12 Stunden aufgefüllt und das finde ich auch ganz toll vor allen Dingen du siehst jetzt gerade jeder Hauttaar funktioniert man sieht hier gerade auch ein bisschen Großporre gehaut und ja und auch glänzende Haut das ist doch toll schau mal sofort wie die Haut mattiert die Poren die werden komplett aufgefüllt super und das sind Sekundenschnelle das ist jetzt guck mal du siehst doch sofort wo das drauf ist du siehst sofort wo das drauf ist wir haben noch 45 Tiegel ja also jetzt in die Leitung sichern ist ein geniales Produkt egal ob sie große Poren haben ob sie Falten haben ob sie glänzende Stellen haben vor allen Dingen weißt du was ich schön finde es ist eine perfekte Hand es ist trotzdem natürlich du hast keine Maske gar nichts ja es macht das Produkt weil das Produkt ist unsichtbar super es macht Falten unsichtbar es macht große Poren unsichtbar es mattiert und das Produkt sieht kein Mensch keiner sieht was auf der Haut weil das Produkt selber unsichtbar ist und es riecht übrigens nach Number One mhm hat so leicht zwischen Duften mit Number One The following is a paid presentation for Vino Gold brought to you by Emma Somm U.S. Inc. Fall in love with your skin all over again with Vino Gold On today's edition of Beauty Secrets host Laura Baker gets the inside scoop on what causes wrinkles and premature aging and beauty expert Alicia Perez reveals the age defying secrets contained in some very special European grapes then travel to German wine country where the family owned Emma Somm Company has produced beauty products for some of Europe's most expensive brands for almost 50 years and discover the revolutionary breakthrough in age defying skin care cream by Marcus and Miriam Somm the incredible Vino Gold at the heart of Vino Gold's age defense is the one of a kind Vino Gold Complex a patent pending blend of OPC and resveratrol two powerful grape derived anti-oxidants along with cold pressed grape seed oil and high technology peptides to dramatically improve the appearance of fine lines and wrinkles just ahead a special offer directly from Emma Somm that is too irresistible to miss and watch as the perfect tongue wrinkle filler seems to make wrinkles crow's feet and enlarged pores disappear right before your eyes fall in love with your skin all over again with Vino Gold from Emma Somm welcome to Beauty Secrets joining me is beauty and style insider Alicia Perez now Alicia I know that you've brought with you the latest and greatest products and procedures but today she's here with the age defying secret European women are swearing by Vino Gold age defense from Emma Somm and let's face it we've all admired the smooth radiant ageless skin of European women right well I'm excited to tell you about Vino Gold it's a prestigious European skin care line that's made in Germany it uses a proprietary antioxidant complex made with special grapes the complex is designed to target the appearance of fine lines and wrinkles well let's take a look at these before and after photos they are 100% real no special effects no retouching and no lighting tricks it's like looking into a time machine I know right and with my profession I've tried all sorts of wrinkle products but none of them seem to work quite like Vino Gold age defense and it's not just what it's done for the appearance of fine lines and wrinkles it's the way that it seems to even out my skin tone my whole face feels radiant and fresh I know grapes are nutritious but I don't understand how grapes can help our skin look younger well think about oxidation for instance rust attacking metal on a car it's similar to how pollution sunlight and all sorts of other things in the environment breaks down the skin cells that breakdown leads to the wrinkles lines and uneven skin tone that we all despise so all of that can be caused by oxidation attacking sort of like rusting out our skin exactly and that's where the special grapes in Vino Gold come in they were first discovered in a gorgeous remote part of the wine country in Europe and were found to contain a very high level of a powerful antioxidant called OPC 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 is a very powerful antioxidant that's been reported to be up to six times stronger than vitamin C and up to 20 times more effective than vitamin E the Assam family combined this OPC with the age-defying benefits of another grape-related antioxidant called resveratrol it's found in red wine isn't it yes exactly and that's why small amounts of red wine are reported to be good for you in Assam combined OPC and resveratrol with a secret peptide to create their super powerful one-of-a-kind vino gold complex this special complex is designed to target oxidation that can damage your skin and lead to wrinkles fine lines and other signs of aging now this is a very special proprietary complex and it's the key to the vino gold age defense right that's right the skin on your face around your eyes even on your neck and chest all need to be protected but they all have special needs vino gold's age defense especially blends its proprietary complex with other customized ingredients to treat each to be able to skin and that's why